Ciao a tutti ragazzi sono Merlocraft e ci siamo qui in un velocissimo vlog per dirvi che siamo in live sul canale youtube di EpicFasso Venite a trovarci, vi lascerò il link qui sotto in descrizione del live del canale di EpicFasso Mi raccomando iscrivetevi e tutte le cose varie Venite a trovarci nel live e ci vediamo tra 5 minuti sul live